Spallata in Cassazione nel processo per l'omicidio di Francesco Della Corte, il vigilante è ucciso da tre minorenni mentre lavorava a Piscinola come vigilantes nel controllo della metro. La Corte di Cassazione ha annullato le sentenze emesse e disposto un nuovo processo davanti ad una nuova sezione della Corte di Appello di Napoli per i tre giovani ritenuti responsabili della morte di Della Corte, avvenuta il 16 marzo del 2018 in ospedale dopo un'aggressione subita 13 giorni prima all'uscita della metro di Piscinola. I tre vennero condannati in primo e secondo grado a 16 anni e 6 mesi di reclusione. Luigi Carrozza, Kevin Ardis e Ciro Urgillo, minorenni all'epoca dei fatti, sono stati difesi rispettivamente dagli avvocati Covelli, Musella, Chiummariello e Pomponio. La morte di Franco Della Corte, 51 anni, colpito con una spranga, suscitò sdegno non solo a Napoli. Molte polemiche, soprattutto sui social, anche con foto e video, seguirono la triste vicenda del vigilante succiso per i permessi concessi ad uno dei ragazzi nell'ambito di un programma di recupero, tra l'altro per festeggiare i 18 anni e per un provino con una squadra di calcio. Rabbia sconcerto tra i familiari di Della Corte, la figlia Marta annotato in un lungo post su Facebook. Ti hanno ucciso senza un motivo e continuerò a parlare di te papà finché avrò voce perché tutti possano conoscere la bella persona che eri.